oggi vi racconto di una partita che non mi dimenticherò mai una partita che mi ha segnato profondamente nella mia epopea di appassionato di calcio che ha lasciato tracce indelebili ha caratterizzato in qualche modo la mia passione e il mio gusto una partita che a mio modo di vedere entra nell'epica calcistica contemporanea una partita incredibile con un risultato non preventivato e con l'esplosione di due giocatori che da lì in avanti hanno fatto parlare veramente tanto di sé la partita di cui vi parlo è la finale della coppa intercontinentale del 2000 la cara vecchia coppa intercontinentale quella partita secca che ai tempi si giocava in giappone e che contrapponeva la vincitrice della champions league e la vincitrice della coppa libertadores quindi lo scontro definitivo fra europa e sud america per definire il campione dell'anno e nel 2000 la partita si gioca fra il real madrid e il bocca juniors real madrid che viene dall'aver stravinto la finale di champions contro il valencia la prima finale di champions giocata fra due connazionali e il bocca juniors che ha riconquistato la coppa libertadores piegando ai calci di rigore il palmeiras di felipao scolari ai tempi stavo per compiere 18 anni gli avrei compiuti dopo qualche settimana ero già un buon appassionato di calcio sud americano sarebbe più giusto dire che ero un mendicante di quel football perché allora non era come oggi era un po più difficile reperire immagini resoconti narrazioni delle partite che si giocavano al di là dell'oceano e allora forse anche per questo fatto la mia passione era piuttosto forte perché quando fai fatica a prendere qualcosa allora ci tieni di più ti conquista di più oggi è diverso siete più fortunati potete vedere qualsiasi partita in qualsiasi momento da qualsiasi angolo del mondo allora era più complicato e non so forse quanto siete fortunati lo siete fino a un certo punto perché ripeto certe cose ti entravano ti colpivano maggiormente da buon appassionato di calcio sud americano mi piaceva tantissimo quel bocca juniors il bocca juniors del virrei carlos bianci l'allenatore che già in qualche modo mi aveva colpito quando ero ancora più bambino perché con il suo velez vinse proprio la coppa intercontinentale totalmente a sorpresa contro il grande milan di fabio capello e già lì la figura di carlos bianci ex attaccante ma io non me lo ricordavo in campo questo uomo con i capelli bianchi che poi era passato anche dalla roma venendo quasi sbeffeggiato poi era tornato in argentina aveva plasmato questo bocca juniors vincente in coppa libertadores un bocca retto da una banda di colombiani il portiere oscar cordoba il patron bermudez in mezzo alla difesa e il mediano serna un bocca juniors che soprattutto si imperniava su un 4 3 1 2 limpido e cristallino e quando il 4 3 1 2 agli interpreti perfetti è forse il sistema di gioco che permette le espressioni tecniche calcistiche più alte questo 4 3 1 2 era totalmente gestito da due figure che già rappresentavano delle icone nella mia mente uno il centro avanti il numero 9 martin palermo un toro mancino che sbatteva in porta tutto quello che gli passava davanti già con una storia ricca di episodi molto particolari mettiamola così e il numero 10 un 22 n che invece stava emergendo uno così io non l'avevo mai visto numero 10 con la faccia incarognita e piedi lirici una figura altezzosa in grado però di far delirare completamente le masse quan roman richelme questo è il bocca juniors che si presenta in giappone con un pronostico praticamente chiuso perché di fronte c'è il real madrid dei galacticos il real madrid di casillas di hierro di michelele di mcmanaman di guti di raul di morientes di figo preso proprio nell'estate per celebrare la vittoria in champions e per aprire con florentino peres un'era di grandi trionfi un madrid con roberto carlos sulla fascia sinistra un madrid enormemente favorito e invece cosa succede succede che il bocca juniors si presenta in giappone seguito da circa 10.000 inchias vogliosi di prendersi la gloria e quando la gente del bocca la gente argentina decide che è arrivato un momento del genere difficilmente non fa la differenza cosa succede sul campo inizia così la partita minuto numero 3 il real madrid cerca di gestirla anche con un palleggio a buon ritmo tipico del calcio portato da del bosque però il bocca lo affronta con serenità è ben ordinato e ben chiuso e appunto al terzo minuto esce una palla dalla difesa la palla viaggia per l'inserimento di celito del gado la seconda punta di quella squadra era sempre in ballottaggio con ghisciamo baroschelotto ma spesso partiva lui perché perché era il socio perfetto di richelme celito del gado aveva una capacità di attaccare la profondità con una partenza bruciante e soprattutto con ottimi tempi manna se ad armarti c'è richelme però se non ricordo male non credo di farlo quella palla dalla difesa la mette fuori anibal mateshan uno che non ci si aspettava di vedere in quella partita perché mateshan era fondamentalmente il centrale di riserva i due titolari erano il patron bermudes e traverso carlos bianci però lo fa giocare da terzino sinistro per andare a fargli marcare figo una mossa che ha fatto scuola infatti tre anni dopo due anni e mezzo dopo ad esempio marcello lippi nella finale di champions league fra juventus e milan piazzò montero in quella posizione gli andò meno bene mateshan non era un titolare ma era uno di cui bianci si fidava un vincente lo ha dimostrato anche dopo perché nel 2007 sarà una delle colonne dell'incredibile arsenal di sarandi di alfaro che vince la coppa sudamericana contro ogni pronostico anche in quel caso presentando uno sprizzante talento 19enne chiamato alecandro da tutti il papu gomez bene matehan fece uscire quel pallone dalla difesa verticalizzandolo profondamente repentinamente e per il primo attacco del bocca il real madrid si va a trovare un po' sbilanciato celito delgado scappa sulla sinistra fa un cross teso perfetto irrompe martin palermo fra caranca e roberto carlos sinistra al volo dal limite dell'area piccola casiglia sbattuto 1 a 0 per il bocca terzo minuto ti viene il pensiero di dire è troppo presto insomma la partita è stata sbloccata è arrivata già una sorpresa però il real madrid deve ancora mettersi in moto bene passano tre minuti minuto numero 6 il real madrid effettivamente si è messo in moto alzato il baricentro alzato la velocità di circolazione comincia ad attaccare con tanti uomini e mcmanuman prova uno sfondamento centrale palla al piede lo ferma seba battaglia ragazzo prodotto del settore giovanile uno che arriverà a vincere una quantità impressionante di trofei con il bocca solo barro schelotto ne ha vinti più di lui contando quelli da giocatore ed allenatore battaglia in qualche modo riesce a fermare l'inglese e fa la cosa più logica per un ragazzo giovane in una situazione del genere che recupera una palla al limite della propria area di rigore schiacciato dalla pressione dei galacticos madridisti cosa fa la gioca il più velocemente possibile il più semplicemente possibile verso Juan Roman Riquelme Riquelme è piazzato sulla propria tre quarti riceve questo pallone e secondo me passa circa un secondo in cui registra la situazione studia lo scenario e vede che Palermo sta sbuffando sta partendo per andare ad attaccare una metà campo completamente sguarnita e allora Riquelme cosa fa sembra carezzare il pallone con il destro in realtà lo fa volare per 50 metri con una traiettoria telecomandata e perfetta il mondo si piega al volere di Riquelme il campo è casa sua la palla fa esattamente quello che gli comanda il piede di Roman 50 metri di corsa Palermo che corre con Jeremy che cerca di contenerlo ma Jeremy riesce solo a rimbalzare addosso alla schiena del numero 9 del Boca e Palermo non deve neanche modificare la falcata perché il pallone ricade a circa 25 metri dalla porta fa due rimbalzi si accomoda perfettamente appena all'interno dell'area di rigore Palermo tac 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 sinistro Casillas fulminato un'altra volta 2 a 0 per il Boca al sesto minuto e lì le cose cominciano a prendere un certo tipo di proporzione anche se il pensiero rimane lo stesso sei minuti il Real Madrid comunque ha abituato magari a degli avvi sono lenti e poi ha delle rimonte turbinanti il Real Madrid è troppo forte però già vi dico dopo quella doppietta di Palermo in sei minuti io avevo già preso la mia soddisfazione i miei idoli mi avevano già fatto vedere di essere veramente dei giocatori di livello mondiale pazienza poi il risultato avrebbe potuto essere quello che sarebbe venuto fuori ma la mia dimostrazione di ragazzo appassionato di calcio sudamericano già l'avevo avuta tra l'altro era da tempo che parlavo di quella squadra di quei giocatori ad amici conoscenti che magari li conoscevano molto meno e in qualche modo avergli fatto vedere che quelli erano giocatori di livello assoluto mi aveva dato soddisfazione però a quel punto insomma magari la partita pensi anche di poterla vincere la reazione del Real Madrid è piuttosto netta e porta soprattutto come protagonista Roberto Carlos Roberto Carlos che appena dopo il gol di Palermo spacca la traversa con un destro sì un destro in inserimento bruciato il negro i barra convergenza tiro e la traversa salvare il bocca Roberto Carlos che riapre anche la partita minuto numero 12 sì perché in tutto ciò siamo ancora al dodicesimo minuto altra palla che arriva da destra da parte di figo la difesa del bocca la gestisce così così Roberto Carlos stavolta entra col sinistro e a spaccare è la rete 1 a 2 ok il Real Madrid ha iniziato la rimonta e adesso il Boca Juniors verrà travolto così non è assolutamente stato il bocca si è mantenuto totalmente tranquillo di fronte agli sforzi del Real Madrid ai tentativi di riprendere la partita anzi Palermo prima dell'intervallo ha avuto anche il pallone del potenziale 3 a 1 sulla sua testa d'oro però ha battuto alto e la leggenda dice che negli spogliatoi durante l'intervallo Palermo non fosse giubilante per la sua doppietta in faccia al Real Madrid fosse molto sconcertato molto deluso per aver sbagliato quella grande occasione con ancora 45 minuti davanti con il Real Madrid che avrebbe tentato in tutti i modi la rimonta e che Carlos Bianchi da finissimo uomo di calcio e gestore di spogliatoio gli si sia avvicinato dicendo Martin non ti preoccupare il 3 a 1 noi non lo segneremo mai ma loro il 2 a 2 non ce lo faranno infatti il Real Madrid il 2 a 2 non lo farà mai perché perché il bocca non si è messo a difendersi di fronte alla grande armata avversaria ha puntato sul calcio ha puntato sul suo miglior giocatore ha puntato a dare la palla a Richelme e Richelme quella mattina era un martedì mattina quel 28 novembre ed era un giorno di scuola io facevo la quinta liceo mamma quel giorno a scuola non ci sono andato la vedevo come una missione culturale dover vedere la partita abbi pazienza è andata così quella mattina Richelme ha regalato un secondo tempo che è stata praticamente un ode al football ha gestito completamente lo scenario e la partita ha spento il Real Madrid gestendo i ritmi i tempi facendosi dare la palla difendendola con quella sua postura tipica con il sedere un po' proteso a tenere a distanza l'avversario e nessuno che poteva pensare di interferire fra il lavoro dei suoi piedi e quello del pallone veroniche dribbling due avversari attaccati addosso e lui ad uscirne sempre con grande naturalezza fu un recital totale di romano il bocca vinse la coppa intercontinentale Real Madrid non riuscì a pareggiarlo il bocca fu campione del mondo aveva vinto la libertadores in estate ha vinto l'intercontinentale e pochi giorni dopo poche settimane dopo vinse anche il campionato d'apertura un triplete incredibile per carlos bianci e la sua squadra nell'età d'oro del bocca juniors per me la rivelazione assoluta non tanto la rivelazione la conferma dell'innamoramento totale per questo tipo di calcio per questo tipo di storie e per questo tipo di giocatori richelme palermo che poi insomma più avanti anche la mia vita professionale un pochino l'hanno segnata giusto un po' protagonisti lo sono stati la gente mi chiede spesso perché sono così appassionato di calcio sudamericano secondo voi perché che è Grazie.